ladri in casa parte seconda allora vi è andata di culo che non era allarmato quindi ve l'abbiamo resa facile visto e considerato che in casa non c'è un cazzo niente a rubare poi è arrivata mia compagna avete sentito siete scappati ma la cosa che mi fa girare picco è che siete entrati in camera di mia figlia adesso vediamo se riuscite a darmi una mano a cercarli ve li faccio vedere ok ecco gli hanno scavalcato in tre poi adesso beh forzano la porta finestra non c'è giù neanche la tapparella e non era allarmato adesso vi faccio vedere quando entra questa lavorando per entrare poi ovviamente ce la fa ecco lì che entrano in camera di mia figlia si sente anche oh qui li vedete bene andavo coglione hai visto la telecamera vero e questo quello che mi fa incazzare di più ecco lì che scendono perché sta arrivando la mia compagna e si accorgono a me c'è la telecamera ecco però sorridi coglione questo è più sveglio ah torna indietro ho dimenticato qualcosa ecco che è arrivata sentito la voce mia figlia e qui scappano i coniglietti ecco così avete visto tutta la sequenza ecco